29 a.C. circa, Roma è in auge e attraversa l'età d'oro sotto la guida dell'imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, figlio adottivo e rete di Giulio Cesare. I confini sono delimitati e ben protetti, finalmente si ha la pace, Augusto si circonda su esempio di mecenate dei più eminenti artisti dell'epoca tra i quali spicca Publio Virgilio Marone, poeta originario di Mantova, città della Gallia Cisalpina, ai quali viene affidato il compito di creare un poema immenso per esaltare la grandezza di Roma, delle sue origini, e della dinastia Giulio-Claudia, alla quale apparteneva Augusto. Ma perché la scelta ricadde proprio su questo poeta? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un salto temporale e tornare al 39 a.C. quando Virgilio scrisse la sua prima opera Le Bucoliche. Questa opera è costituita da dieci componimenti in esametri che parlano della vita bucolico pastorale. Questo mondo è simile a un sogno utopico di pace e armonia temporale dove non vengono descritti i pastori nella concretezza della vita quotidiana Magliozzi, le gare poetiche, e, tema molto frequente in Virgilio, gli amori, spesso infelici. L'unica cosa che non rimane estranea dall'opera di Virgilio è la storia, che viene però sdrammatizzata dal canto. Quindi il microcosmo bucolico creato da Virgilio è realmente un mondo poetico che abbraccia tutti gli aspetti del mondo reale. Esempio della presenza della storia nella composizione virgiliana è sicuramente la prima bucolica che presenta in primo piano il pastore Melibeo che è costretto all'esilio in quanto privato delle sue terre. Infatti il compenso che veniva dato ai soldati di ritorno dalla guerra era l'assegnazione di alcune terre, che però dovevano essere strappate dalle mani dei precedenti proprietari. Differente da quello di Melibeo è il destino del pastore Titiro che mantiene i propri terreni e può essere identificato autobiograficamente con lo stesso Virgilio, il quale aveva mantenuto i propri possedimenti solo grazie all'intervento dell'imperatore. Da ciò si nota come già partendo dal destino i due pastori siano completamente diversi. Titiro è più anziano di Melibeo, con un bagaglio maggiore di esperienza, è un liberto uno schiavo affrancato, ha già avuto esperienze d'amore, ha visto com'è la città e riesce a consigliare Melibeo che vede in lui, se non un maestro, una persona più anziana che può insegnargli qualcosa di nuovo. Così mentre Melibeo raccoglie le sue cose e si prepara all'esilio, Titiro è comodamente seduto sotto un faggio a suonare in una specie di idilio pastorale. A questo punto Titiro spiega a Melibeo che è stato un deus a donargli la pace e per questo motivo offrirà sempre sacrifici in suo onore. Questo deus di cui Titiro parla è ovviamente Ottaviano Augusto, il quale, come si è già detto, ha permesso a Virgilio di mantenere i suoi territori e per questo lui lo celebra, in questa e in altre opere. Così mentre Melibeo spiega a Titiro la situazione dei campi e si duole del suo destino, quest'ultimo gli racconta di come esso fosse andato in una città di nome Roma, totalmente differente dalla loro, per diventare un uomo libero, gli racconta della sua rovinosa storia d'amore con Galatea e, infine, lo invita a passare la notte da lui. Poiché la poesia è divisa in due sfere, quella positiva di Titiro e quella negativa di Melibeo, risulta più semplice analizzarla prendendo queste due sfere separatamente. Titiro, come si è detto, è l'ombra di Virgilio. Infatti come il poeta anche lui ha mantenuto le proprie terre grazie all'intervento di un deus, Ottaviano, che viene proprio qui, nella prima poesia, esaltato da Virgilio che grazie all'intervento dell'imperatore era riuscito a mantenere i suoi possedimenti. A Titiro invece l'imperatore ha fornito la libertà, rendendolo un uomo libero, da schiavo che era, e fornendogli tutti quei privilegi che gli consentono di vivere da persona normale. A quel deus Titiro deve la pace che ha conseguito negli ultimi anni e che tuttora possiede, pace che gli consente di essere tranquillo all'ombra di un faggio a suonare, di non temere per i suoi territori. Pace della quale lui stesso si stupisce ricordando quanto ha dovuto aspettare per conquistarla. Ora Titiro è un uomo libero, che possiede e mantiene le sue terre, che può star tranquillo e suonare, godendosi l'Ozium. Tuttavia ci viene mostrato che nella sua vita ha dovuto anche subire la schiavitù, ha dovuto viaggiare per affrancarsi, e, soprattutto, è finito in quella rete dell'amore rovinoso che compare così spesso in Virgilio. Specialmente quest'ultima tematica, che si vede già qui nella prima bucolica, è molto interessante. Come si può notare esaminando anche le altre opere di Virgilio, l'amore rovinoso, detto anche furor, è qualcosa che prende l'innamorato e dal quale non si riesce a fuggire facilmente. A causa di esso Didone si suicida, a causa sempre di esso Orfeo non riesce a riportare in vita Euridice, ma la perde nell'Ade. Ma se allora il furor è una sorta di circolo dizioso come mai Titiro è riuscito a lasciare la donna per cui lo provava, Galatea, e a sposarsi con Amarilli? La risposta va ricercata davvero a fondo negli scritti di Virgilio e si trova nella Egloga 10 dove l'amico di Virgilio, Cornelio Gallo, si consola dalle pene dell'amore dedicandosi alla vita pastorale. Quindi con questo inno è insieme col fatto che poi Titiro si innamora di nuovo, Virgilio ci spiega che si può fuggire dal furor. Funzione importante è anche quella della musica, che accresce anche il valore del locus amenus, e che infatti, non a caso, viene messa dal sommo poeta all'inizio della prima bucolica ed è grazie ad essa che appunto Orfeo ha una possibilità di salvare Euridice. Tuttavia qui la funzione della musica è molto di più. Si pensi un attimo a Melibeo, è disperato, ma questa disperazione non giunge al lettore grazie alla musica, o meglio, alla musicalità, che Virgilio imprime nella poesia e che quindi sdrammatizza gli eventi. Melibeo è in effetti disperato, non vuole lasciare le sue terre e di certo non lo emoziona un viaggio verso l'ignoto. Questa sua riluttanza a partire e la sua disperazione si specchiano nel suo bestiame. Infatti le pecore, vista la debolezza e la disperazione del padrone, non vogliono proseguire, come se fossero legate alla terra quanto lo è il loro padrone. A loro volta le figure del bestiame e di Melibeo emergono da un paesaggio che dal punto di vista del pastore è scompiglio, probabilmente lo stesso scompiglio che è innanzitutto nel suo gregge e successivamente nel suo cuore. Fosse solo scompigliato il cuore di Melibeo allora non si presenterebbe al pastore tutto questo problema, ma in esso c'è la disperazione, ancora una volta presente nel suo gregge, con i due capretti che devono essere lasciati indietro, perché non possono essere portati via, poiché costituirebbero un intralcio, e che quindi rimangono sulla pietra fredda e dura, come la morte che li attende, rappresentata simbolicamente attraverso l'albero abbattuto dal fulmine di Giove. Specchio di questi sentimenti di Melibeo è anche il cercare ciò che sia umile, ma comunque legato ancora alla sua casa, come i filari, le spighe, le viti, che egli stesso si impone sarcasticamente di coltivare, seminare e disporre, come a sottolineare il disprezzo non a caso si utilizza la parola barbaro e la rassegnazione nel vedere ciò che è suo, è frutto del suo lavoro, in mano ad altri. Tuttavia abbiamo detto che dalla poesia non traspare tutta questa negatività, il perché l'abbiamo giustificato già in parte con la musicalità, ma ci sono altri due motivi. Il primo, più importante, è l'amicizia, che, come al solito, è alla base dei rapporti umani e da ciò che offre ti tiro a Melibeo nel finale invitandolo a casa sua, e che aiuta a sdrammatizzare un po' il dolore di Melibeo, che può quindi godersi ancora un po' la sua patria. Il secondo è quello su cui occorre soffermarsi di più perché è, curioso. Dopo un'analisi attenta si può constatare come nella prima bucolica si parli del Deus Ottaviano, per il quale Melibeo nutre una certa curiosità. Si può facilmente notare come, quando si parla del Deus, Melibeo viene distratto da quello che lo aspetta, invidiandosi titiro, ma rimanendo in quella sorte di curiosità di cui è parte il lettore e che lo estranea un po' dalla sua dimensione del dolore. Questa è la cosa più straordinaria di Virgilio, perché, così come ti tiro con Melibeo, il sommo poeta ci tratta tutti come bambini, infatti quando un bambino si fa male si cerca di distrarlo, così non pensa più al dolore. Così Virgilio ci distrae con la curiosità e sminuisce molto il dolore che magari la poesia ci può esprimere, una operazione tanto grande quanto lecita. Dopotutto alla fine davanti al sommo poeta, alla sua grandezza e alla sua eccellenza nello scrivere, non siamo nient'altro che bambini.